In realtà il dettaglio che fa la differenza è il dipinto suo alla bocca, perché benché sembra soltanto un dipinto, non è soltanto questo. Le spalle presentano un sistema meccanico di corde, tale per cui i dipinti si sollevano in verticale, sono delle grandi finestre a balistas. Questa era la ventilazione alla fine dell'Ottocento e funziona ancora oggi così, perché l'aria è declinatizzata e non si forne in funzione durante l'opera, danneggia seriamente le cose locali degli artisti, dunque, abbastanza. E sebbene sembri piccolo che non ho fatto, è una falsa impressione, accoglie 1380 spettatori. So, for my English speaking guest, this is one of the best ones in terms of statistics. As you can see, the grand hall is not too grand, but looks intimate, it has got a shape of a bar shirt, that is all made up in wood, chestnut wood. It becomes a natural microphone for a real opera singer, who doesn't use microphones. The opera must be light. But I think that the most important thing is the painting on the ceiling. The painting is not only a painting, but those paintings are windows that can be raised like flash in a bright position. That was the only good idea that laid the auditorium in the late 19th century. And we still hope in the city, they still work. Gear conditioning is not allowed nowadays. Gear conditioning is not allowed nowadays. Gear conditioning is修造 design. Gear conditioning is not allowed nowadays. Gear conditioning is being r San Chợt.